Elegance per Donan, questo nome io sono Perna Oggi, vi volevo dire, questo è un video informazione Oggi per voi, per me è... Ehm... Per me è giovedì, invece per voi è... Domenico Faccio questo video qua, anche perchè per dirvi Che lunedì, martedì e mercoledì Non registrerò video perchè andrò Tre giorni via In... con la scuola In... all'Energy Camp Magari farò vlog qualcosa Sì, forse farò un vlog Sì, ma mi sa di no Probabilmente no, perchè i telefoni ce lo faranno Utilizzare molto poco, però... Guarda cosa posso fare, quindi lo faccio per dirvi Ehm... Questa cosa qui, anche per dirvi di questa cosa qui Cioè, quindi questo video Cioè, si termina quasi subito qui Termina quasi subito, insomma Sì Vai, ciao raga Ehm... praticamente in queste Faremo delle... delle attività nuove In questo giorno Cioè, in questi momenti Si abbuglia tutto Sì, faremo delle attività, diciamo, divertenti Quindi, se riesco, vi porto anche delle... delle cose che facciamo Però non credo Forse vi porterò un vlog del posto Appena arrivati O nell'autobus Sennò... Sennò... Si, si, ci saranno anche altri nuovi video Ci sarà Minecraft, che abbiamo già fatto il primo e il secondo episodio Con Tommy No, abbiamo fatto il primo che divido in due parti Si, si Che loro l'avranno già visto tanto Si, l'avrete già visto Di sicuro probabilmente Forse dovremmo registrare anche il secondo ora Vabbè Vabbè, lo faremo Vabbè Lo faremo poi Quindi, ragazzi Questo video qua finisce Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like per sostenermi Anche in questi giorni Che sono via E seguitelo su Instagram Se no sei a rabbia Tomminardo02 Anche a me, grazie E... Gabi il Manifio Gabi il Manifio Ok, ragazzi Molto, molto importante Ciao